Parla anche Ingroia, dice che le politiche di Monti in realtà sono le stesse di Berlusconi. Allora eccolo in una dichiarazione di poco fa. Il sistema economico diceva quindi un no alle politiche del governo Monti. Le politiche del governo Monti sono state al di là delle promesse in linea di continuità con quelle del governo Berlusconi. L'iniquità del sistema si è aggravato, gli italiani che erano già poveri oggi sono ancora più poveri nelle tasche e nei diritti. E questa politica che è in linea con l'Europa delle finanze e delle banche deve essere rovesciata, deve essere attuata una politica giusta per un'Europa più giusta e più solidale.